andiamo a seguire 1.37 e 29 gioco 10.20 gioco la valla in terra Giulia Leonardi Giulia Leonardi dicevamo 1200 lo scorso anno a Porto Varsopana applausi è passato avanti la Castanier del numero Giulio Castanier del numero è una bellissima gara poi anche la Francesca Madolani si è portata in parte in terza posizione per le marche Leonardo 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 Loppebrana Giulia Gretara 1.06.30 Leonardo Gretara 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 Grazie.